Sì, potrei caricare questo video in real... Qua siamo un attimo... Qua stiamo scherzando. Ma che c***o dite? Ma cosa c***o? Sono un attimo stunnata, perdonatemi. Questo è quell'ordo di giro. Ma per forza, perché hai pure scritto prima. Per il cheerer anonimo, che sappiamo tutti benissimo chi è. Perché è un lordo incaccavuto di nome GiroBuy. Che ha donato 50.000 bits. 50.000 bits. 50.000 bits. Grazie mille, veramente. Grazie, grazie mille. A entrambi, ma soprattutto a Giro. Perché ha fatto una donazione che non ha veramente senso per quanto è grande. Oh my god! Ma buongiorno... Aspetta, ragazzi. Fanno troppo rumore comunque questi... Il casino che c'è in questo posto è veramente insano. Allora, se mi faccio lo shieldone e sopra escono gli scudini, tilto. Qua lo dico, qua lo faccio. Pronti? Pronti? Ah, meno male. No, raga, c'è un... C'è... Veramente in queste zone sento un casino assurdo. Ops. Allora, prendiamo questo. Prendiamo questo. Facciamo i funghi porcini. Peperoncino? Bene. Andiamo, raga. What? Oh mio Dio! Fra! Scusami. Grazie a te che ci fai divertire nel live. Bom, 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 bom! E il pompa mitico... Dimmi che hai pure il pompa... Mamma mia, che benessere! Ma che benessere! Ma che benessere! Troppa gentilezza in questo ragazzo. Non dovevi, non dovevi, non dovevi, non dovevi! What the fuck are you doing? What the freak, man? Stamattina non ce l'hai per nessuno. No, non mi sierò nella kill. Io volevo picconarlo, però. Vabbè. Alla, ecco. Ma quello? Gentilmente... Ah, stamattina... Il mio bloom proprio... Eh? C'è il bloom, eh? Io, ragazzi, prendo il rampino. To be honest. A me non uso il rampino e il loop. Oh! È bello! Vuoi assaggiare? Vuoi assaggiare? Vuoi assaggiare? Ragazzi, ragazzi, fermi. Tu. Ma cosa? Ai. Tiung. Tiung. Wuhuu Potrei avere un problema ragazzi Dai dammi uno shieldone qualcosa Dovrebbe avere poca vita Non me lo farà mai fare ragazzi Se lo faccio sono safe Yo brother Go 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 All'RPG Non me lo farà mai fare ragazzi Mai Ok Ah ma ragazzi oggi Ma qua Boh Non penso sia fatta a posta Chill 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 Fammi ricaricare un secondo Questa fretta sinceramente non la capisco Vola gabbiano più giù Dov'è l'altro Ah ho si dovuto sparare Giuro Tagliardone questo ragazzi Tiens Sì, 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 sì. Mamma mia! Destroyed proprio, ragazzi! Destroyed! E si vola con le bombebette! Primo game, prima win! GG, per voi questa partita, ragazzi! Per voi!